Ciao a tutti e benvenuti nel canale YouTube Madame Nia! Questo sarà un video davvero molto veloce perché vi mostrerò i premi che ho messo in palio per voi. Prima di tutto ho scelto una crema mani alla mela e il sapore è davvero molto buono e sembra effettivamente mela verde. Poi uno smalto dell'astra color fucsia, un lip gloss della L'Oreal color marroncino della durata di 6 ore con tantissimi brillantini, un bracciale rosa con questi diamantini rossi che si apre così, fiori secchi profumati in questa bustina salva per scherzo e per finire ho messo in palio anche dei campioncini che sarebbero due gel detergente per pelli impure. Quindi per ottenere questi prodotti, quindi vincere al giveaway, dovete mettere mi piace sulla pagina Facebook Madame Nia, pubblicare il post modalità a tutti, taggando quante persone volete. e se volete avere più chance di vincita potete iscrivervi qui sul mio canale YouTube e anche sul mio blog su Google. Quindi sul canale YouTube mi chiamo appunto Madame Nia e il mio blog sarebbe madamnia.blogspot.it Importantissimo, una volta che vi iscrivete su entrambe le piattaforme, o su una delle due, quindi o su YouTube o su Google, dovete mandarmi un messaggio privato sulla mia pagina Facebook Madame Nia con il vostro screenshot, quindi facendomi vedere le vostre iscrizioni o dicendomi con quale nome vi siete iscritti. Se non mi mandate il vostro messaggio io non potrò addizionarvi i numeri. Potete anche non iscrivervi, ma avrete solo un numero. Se invece vi iscrivete sia su YouTube che su Google avrete ben tre possibilità di essere estratti. Con questo è tutto. Se avete dei dubbi potete o lasciarmi un commento qui sotto o mandarmi un messaggio privatamente sulla mia pagina Facebook. Ciao a tutti e spero che i premi siano di vostro gradimento. Ciao!